Nemmeno la pioggia ha fermato lo spirito di chi vuole sostenere l'utilizzo della bicicletta in città, mezzo pratico e amico dell'ambiente. Circa una sessantina è partecipante all'edizione 2019 di Bim Bim Bici, la tradizionale pedalata in sicurezza, lungo le strade di 200 città italiane per diffondere l'uso tra i più giovani. Oggi i bambini sono stati bravissimi perché ci sono presentati. Non eravamo in tanti, però l'importante è che continui la manifestazione. La finalità della nostra associazione, che siamo presenti, siamo più di 20.000 persone in Italia, come associazione FIAB, che promuove proprio l'uso della bicicletta nelle nostre città. La carovana di bici, composta da adulti e bambini, ha percorso tutte le piste ciclabili di Piacenza, sollevando problematiche e punti critici. Piacenza è stata premiata dalla FIAB perché ha quasi 80 km di piste ciclabili, però sono rimaste le ciclabili di 15 anni fa. Logicamente nel prossimo PUNS che presenteranno vedremo qual è l'impostazione che diamo alla città. Le ciclabili devono essere messe in sicurezza. Deve essere messa in sicurezza soprattutto gli attraversamenti e soprattutto anche, non solamente il centro storico, ci vuole poco a risolverlo. Adesso non entro in questa questione, ma soprattutto le periferie diventano un problema molto alto.